Spaccio di cocaina, estorsione, importo illegale di armi, blitz nel rione poverelli di Torre Annunziata. 17 le persone sottoposte a misura cautelare. L'indagine condotta dai carabinieri è stata avviata nel dicembre 2018 a seguito del ferimento di un uomo tossicodipendente e ha portato alla luce un grosso giro di spaccio di cocaina nel quartiere. Attraverso attività di intercettazione, conversazioni telefoniche, pedinamenti è stata scoperta la rete degli spacciatori. Lo spaccio di droga non si fermava nemmeno davanti alle restrizioni legate agli arresti domiciliari e quando necessario i pusher si servivano di ragazzi minorenni per consegnare fino a casa degli acquirenti la sostanza stupefacente e come spesso succede in questi casi si avvalevano di linguaggi criptici per indicare la droga, ambasciata, caffè, biscotto. Altra operazione antidroga a Mugnano di Napoli dove i carabinieri, dopo aver arrestato il padre, oggi hanno arrestato anche moglie e figlio Nel loro appartamento gli agenti hanno trovato un imponente quantitativo di stupefacenti e di denaro contante I militari infatti hanno trovato il 23enne in possesso di 800 euro in contanti e due borse con un totale di un chilo e mezzo di droga La moglie, 42enne già noto alle forze dell'ordine invece è stata scoperta con 5 panetti di hashish per un peso complessivo di mezzo chilo I militari infatti hanno trovato un imponente quantitativo di mezzo